buongiorno a tutti buongiorno agli amici bentornato senatore grazie ciao Simone come va? ciao Michele bentrovato bene grazie vedo che già ci sono uova di Pasqua Simone già si è preparato per la Pasqua per i tre figli sono già pronte ma lei è previdente devo dire ha paura dell'inflazione sulle uova poi sono introvabili da un tot magari è la volta buona che gli italiani si dicano contro l'inflazione eh magari allora senatore noi l'abbiamo voluta qui diciamo per quello che è venuto fuori in questi ultimi giorni insomma lei è stato al centro di una polemica per le sue posizioni per il fatto di non aver presenziato al discorso del presidente ucraino Zelensky e poi c'è anche quella quella polemica quella diciamo quella quell'inchiesta rilanciata dall'Espresso se non erro su una un investimento da parte sua di una fondazione non lo so adesso ce lo spiega meglio lei ecco se vuole può partire lei facciamo insomma con un tempo di cinque minuti così ci spiega bene poi facciamo rispondere anche gli altri Michele sull'inchiesta l'ho scritto stamattina non è un'inchiesta è una diffamazione a mezzo stampa una diffamazione aggravata devo solo decidere se fargli l'azione penale o se fargli l'azione civile di risarcimento del danno devo dire posso sapere che inchiesta quella dell'Espresso Michele l'Espresso che si inventa che io avrei preso i rubli da Putin cioè no no non credo che abbiano scritto questo hanno scritto che sei eri presidente di una fondazione che prendevi i rubli dalla Russia che è una cavolata primo perché non sono mai stato presidente di nessuna fondazione secondo perché sono stato nel CDA di una fondazione che prima aveva avuto questo tipo di problemi tant'è vero che è stato indagato l'ex presidente e allora per salvare la fondazione hanno azzerato il CDA e hanno nominato dei nuovi membri sono stato e avete restituito tutti i soldi eh tutti i soldi li ho presi io li ho messi tutti in tasca no 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 ho chiesto se li avete restituiti no non sono soldi che cioè allora quando io sono arrivato ho trovato il bilancio in ordine e poi quando mi sono dimesso perché sono diventato senatore il bilancio era ancora in ordine tutto quello che è successo prima io non lo so non lo voglio sapere e non mi interessa di saperlo le indagini hanno riguardato le fasi antecedenti ma diciamo finché ci sono stato lì io non sono entrati rubli e non sono usciti rubli e non sono circolati rubli quindi eh tra l'altro ripeto non sono mai stato neanche presidente questo tanto per essere chiari quindi i signori risponderanno in sede civile o penale di quello che hanno scritto e il risarcimento lo useremo per una bella fondazione che sostiene i bambini con disabilità così che la volta prossima tra l'altro in un articolo non firmato che è una cosa vergognosa quindi proprio tanto lo sai che se non hai firmato la responsabilità è di direttore ecco quindi insomma il direttore risponderà però siccome scrivono non firmiamo l'articolo per protesta per l'accessione del gruppo l'espresso al gruppo no non firmate l'articolo perché vi vergognate di quello che scrive ma no dai Simone non dire sta roba tanto siccome l'articolo lo autorizza il direttore e il direttore sa benissimo che corre il rischio della querela vuol dire che è lui che dice è preso la responsabilità certo il direttore pagherà ah però scusa di cosa deve pagare perché adesso sono andato a cercarlo non mi sembra che dice esattamente le cose che hai detto tu salvo il fatto che tu dici che non sei andato a vedere da dove venivano i soldi no una cosa un po' strana devo dire quando uno dice primo che io ero il presidente e già questa è una falsità secondo hanno sbagliato questo fatto dici che questo è da se mi permetti non è poco il secondo dice che io sarei stato presente mentre circolavano i rubli e mentre da che io sono entrato a che sono uscito io non ho visto entrare un rublo che fosse uno quello che è successo prima io non lo conosco c'è un'inchiesta della magistratura in corso lo accetterà ma non mi interessa non è una questione che mi riguarda quindi accostare il mio nome a Putin o ai rubli è qualche cosa che merita una querela e così faremo va beh va beh ok invece sulla non presenza al discorso di Zelesky da parte tua abbiamo visto insomma che mancavi tu mancavano quelli dell'alternativa c'è alcuni 5 stelle alcuni forza Italia no però in particolare oggi siamo qui con te vorrei capire come mai non ci sei stato e poi in realtà qual è anche la tua posizione su tutto il conflitto sulle sanzioni sull'invio di armi all'Ucraina o la tua visione io posso aggiungere anche un'altra piccola domanda sì su questo tema eh che sono riuscito a recuperare eh diciamo questo evento a cui avresti eh sei hai partecipato sostanzialmente ma purtroppo vorrei capire perché diciamo il video non è accessibile cioè nel senso è stato trasmesso tutto in streaming ma ad oggi non è accessibile niente se tu vai sulla mia pagina facebook lo trovi condiviso ah ok perfetto grazie mille no perché cavolo lo stavo cercando è tutto siamo stati sulla mia pagina facebook condiviso martedì no no perché io ho trovato tutto ho trovato anche la fondazione esiste parla di te eccetera eccetera ma non ma non c'è questo link no no me lo cerco io tranquillo grazie mille prego allora infatti sono andato a recuperarlo c'è scritto proprio questo contenuto non è al momento disponibile guarda te lo condivido anche sulla sua pagina guarda te lo condivido proprio per onestà intellettuale l'hanno bloccato non credo eh sì l'hanno bloccato loro perché se tu recupero il link perché se tu vai qua ok eccolo qua il link ce l'ho eh condividi questa scheda se vedi questa è la fondazione giusto corretto ottimo perfetto come vedi qua questo qua sarebbe il video e purtroppo non è distribibile i responsabili della fondazione l'hanno limitato ai soci non lo so no 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 però te lo faccio notare perché io se vuoi ti posso mandare il mio intervento di cui ho ovviamente il video ottimo perfetto se vuoi te lo posso girare va bene andiamo avanti senatore se mi vuole rispondere alle varie domande allora per quanto riguarda la mancata presenza del senatore Pilon all'evento dell'incontro con Zelensky io faccio notare che c'erano trecentocinquanta assenti tra i parlamentari trecentocinquanta l'unico sostanzialmente altri tre o quattro ma l'unico a cui hanno rotto le palle sono stato io nonostante io avessi fatto un intervento la settimana scorsa in senato in cui annunciavo che sarei stato a Londra proprio il giorno ventidue nonostante io avessi in consiglio di presidenza della commissione infanzia di cui sono vicepresidente annunciato la mia presenza e raccolto l'invito da parte della commissione intera di portare i saluti a nome della commissione infanzia nonostante io questo lo avessi scritto sui social e nonostante questo fosse stato condiviso da alcune testate online quindi se c'era uno che era giustificato se ammesso che sono allucinato dal fatto che un senatore della Repubblica debba rendere conto di dove va o di dove non va e debba giustificarsi ma mettiamo anche che ci sia questa pollia per cui c'è qualcuno che ha la lista dei buoni e dei cattivi e con il ditino alzato si permette di dire dove eri perché non sei venuto qua o là il senatore Pillon era quello che più di ogni altro aveva detto con chiarezza dove sarebbe stato il giorno ventidue le mie perplessità se mi permettete vengono dal fatto che questi signori che adesso sventolano il ditino sono gli stessi che nel 56 diedero l'ok alle armate russe quando entrarono in Ungheria e anzi dicevano che portavano la pace e c'è un senatore a vita siede tuttora in Parlamento e del Partito Democratico che dichiarò nel 56 che la Russia portava la pace in Ungheria gli stessi che successivamente ci hanno spiegato che la Russia portava la pace in Polonia con Jaruzelski oppure portava la pace in Germania a Est con Oneker che poi o prima o dopo a seconda con il Vietnam prima ci hanno spiegato che bisognava sostenere il regime di Ho Chi Minh bisognava sostenere il regime di Senatore l'incoerenza della politica italiana in generale del cambiare idea la conosciamo benissimo esattamente il suo leader ci insegna in questo caso questi signori io dico che primo non accettiamo lezioncine da nessuno io non sono filo russo o filo Putin io sono filo italiano io ho un mandato preciso che è quello di proteggere e difendere gli interessi italiani e in ogni caso anche se non fossi parlamentare sarei filo italiano e lo sono sempre stato mi chiedo due cose a questi signori che molto probabilmente non sanno neanche cosa sia il servizio militare e che fino a ieri facevano le manifestazioni per farsi uscire dalla Nato e adesso vengono qua a spiegarci che dobbiamo stare nella Nato e grazie al cavolo lo diciamo da 40 anni che dobbiamo stare nella Nato ma il problema è un altro il problema è che qui noi abbiamo una guerra che ha delle cause molto complesse e non possiamo dare soluzioni semplici a cause molto complesse quindi noi dobbiamo mantenere la testa sulle spalle dobbiamo evitare qualsiasi tipo di fuga da una parte e dall'altra qualsiasi tipo di strumentalizzazione perché perché la situazione è molto delicata e quando ci sono di mezzo due potenze che stanno in conflitto dobbiamo muoverci con cautela anche perché una di queste due potenze è una potenza nucleare è una potenza che ha le vongole termonucleari la domanda che faccio è secondo secondo lei l'Europa e la Nato si sta muovendo con cautela cioè lei è d'accordo con come si sta comportando l'Europa e la Nato io vi dico che cosa non farei non farei le dichiarazioni che ha fatto Di Maio ok perché tu sei il ministro degli esteri non ti puoi mettere a fare delle dichiarazioni tipo bar dello sport con tutto rispetto per il bar cosa ha detto cosa ha detto quella da quella da Floris è la besta ma beh è venuta una volta su 50 dichiarazioni dai Simone anche tu anche io diciamo mi è sembrata una genialata perché tu sei non è stata una genialata va bene no primo secondo che non bisognerebbe fare secondo me è mettersi a vendere armi a una delle parti in conflitto io ho una possibilità su questo non sono convinto che sia giusto fare parte che non le vendiamo e le regaliamo credo sì salvo salvo buon fine no perché molto semplicemente perché io sono un fiero assertore della legittima difesa e ci mancherebbe altro e abbiamo tutti il diritto di autodifenderci così come ce l'hanno gli stati ce l'hanno le persone ce l'hanno anche gli stati e non accetto neanche su questo lezioni da parte di chi vorrebbe che tutti i cittadini fossero disarmati alla mercè del primo che ti entra in casa ma qui la situazione è diversa perché perché c'è sì una potenza che ha attaccato e noi dobbiamo riconoscere che l'attacco è sempre sbagliato ma abbiamo anche una situazione che è già in corso e quando c'è un conflitto in corso non è una buona idea aizzare una delle parti contro l'altra non è una buona idea però scusami di aizzare infatti il termine aizzare però senatore non mi sembra proprio perché sto cercando di seguire il tuo ragionamento mi sembra un divago adesso lasciamo pare il fatto magari ci torniamo dopo perché ho provato ad invitare svariati i tuoi colleghi tu almeno hai la dignità di confrontarti con gli altri esseri umani altri colleghi ricordo quindi il carissimo liberale libertario onorevole Alex Bazzaro da Venezia che fa anche consigliere comunale ed è assolutamente liberale libertario il quale mi aveva detto che veniva qua da Iva a discutere con me poi boh sparì non risponde più che sia che qualcuno in Lega gli ha detto stassetto che qui va te impenisse non ti sai cosa dire perché non ti sai neanche a contare vero Alex ciao ti mando i miei cari saluti allora poi sulla Lega e le sue coerenze torniamo dopo però vorrei capire perché tu suppongo se vedi me per strada che sono vecchietto più vecchio di te con due che mi aggrediscono con i coltelli in mano e cercano di rubarmi che so l'orologino ok e io cerco di fuggire e tu c'hai una pistola in mano e sai che io la so usare e ti urlo Simone tiri me la pistola cosa fai mi dice Michele fregati ormai ti stanno già derubando non posso intervenire ti aizzerei a commettere legittima difesa no questo esempio me la tiri vero che alza il mio pensiero il mio pensiero è un altro però dimmi me la tiri o no no perché voglio sapere che sennò dalle parti tue non vengo mai non ti darei mano la mia arma per nessuna ragione perché l'arma no perché mi lasceresti che mi accontellassero no il mio compito in quel momento sarebbe quello di mettermi in mezzo ah quindi sei favorevo per un intervento nato che ci mettiamo in mezzo io mi metterei in mezzo tra voi due la proposta di Simone è che facciamo sapere a quel foro che basta o la smettono o ci mettiamo in mezzo noi non farmi dire quello che non sto dicendo hai appena detto tu io ti sto dicendo che se se mi lasci completare il mio discorso sì 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 prego io sono convinto che quando c'è una situazione come questa già in corso il nostro primo obiettivo sia quello di far tacere le armi quando stanno sparando i cannoni non si riesce a parlare non si riesce a dialogare non si riesce a capire le rispettive ragioni c'è una situazione oggettivamente molto complessa i giornali ci raccontano che è facilissimo c'è da una parte Putin che è brutto cattivo antipatico eccetera eccetera e dall'altra parte c'è Zelensky che è buono caro simpatico eccetera eccetera questa guerra però non comincia oggi comincia nel 2014 e ci ricordiamo tutti la strage di Odessa il Donbass i cittadini russofono adesso devi far parlare scusa un altro scusa un altro scusa un altro scusa un altro no no perché tu stai dando sì anch'io mi ricordo io mi ricordo il terrorismo russo i finanziamenti russi assolutamente e comincia lì comincia lì buono buono ecco allora 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 andiamo per ora il punto numero uno di Simone è il seguente lui si metterebbe in mezzo con la sua pistola suppongo dobbiamo dobbiamo fare cessare io ti ho fatto un esempio e ti ho chiesto il suo esempio non è calzante perdonami lascia che decida io se è calzante o meno che decidano se non calzano il pensiero d'accordo tu puoi dopo esprimere il tuo pensiero io posso esprimere il mio tu mi hai detto che sei per la legittima difesa io volevi sapere come ti comporteresti nella situazione concreta che ti ho descritto dopo di che chi ci ascolta fa le sue deduzioni decide se il paragone che io sto creando è calzante o meno io lo propongo ci sono due armati di coltello che mi stanno derubando io ti chiedo di intervenire tu hai la pistola quindi chiaramente se me la passi mi difendo e li fermo tu mi dici no io mi metto in mezzo il tuo dovere non dare la pistola a me ti metti in mezzo e li fermi bene la mia analogia è che questa tua logica nel caso della difesa legittima difesa privata implica nel caso concreto che l'Europa perlomeno che ha forze militari sufficienti per mettersi in mezzo nel quadronato o anche senza Nato per bloccare il conflitto dovrebbe mettersi in mezzo e dire sentite basta sta roba è pesante dovete smetterla adesso o state buoni tutti e due oppure vi meniamo noi bene tu dici no non calza tu dici no non calza tu dici no facciamo fare poi un esempio al senatore magari che ritiene più calzante va bene va bene però posso parlare un po' anch'io allora tu dici no non calza e dici noi dovremmo portare a una sospensione del conflitto ora ti faccio notare che noi qui dovrebbe essere unione europea e che beati loro svariati capi di stato europeo sono circa otto anni che ragionano col signor Putin fino all'ultimo giorno Macron del quale non ho particolare simpatia è riuscito a farsi prendere per i fondelli da Putin pur di cercare di invitarlo al tavolo il quale gli ha detto fino all'ultimo giorno no assolutamente noi nessuna intenzione di invadere noi siamo per la soluzione diplomatica che il giorno dopo ha cominciato a bombardare quindi non è che gli europei non ci abbiano provato no ci hanno talmente provato che si sono digeriti l'invasione della Crimea si sono digeriti il terrorismo separatista in in Donbass e così via si sono digeriti si erano digeriti prima la Cecenia si sono digeriti a Novalni in galera si sono digeriti questo e quello e il tuo partito infatti ha deciso per anni di spiegarci con la bocca del suo leader che Putin è il miglior politico d'Europa è un grande uomo avete l'affratellamento col suo partito e cose di questo tipo quindi non è che non ci sia provato con la diplomazia concretamente cosa faresti tu oggi perché Putin smetta di ammazzare civili e distruggere città stile vietto di Varsalia cosa faresti concretamente allora voglio solo inserire il timer così almeno diamo un po' più di ordine e rispettiamo i tempi però vi chiedo per favore rispettiamolo il timer sarà inutile che ci sia va bene lo metto adesso diamo la parola al senatore così può rispondere con calma cinque minuti prego io ti dico che cosa non farei non farei ci dica anche quello che farebbe però senatore non solo quello che non farebbe intanto cominciamo a dire quello che non farei io non farei dichiarazioni alla cavolo non mi metterei a ritenere che l'unico modo per fermare questa guerra sia o vendere le armi all'Ucraina o cedere le armi all'Ucraina oppure sanzioni che alla fine paghiamo di più noi italiani che non Putin perché questo è perché a Putin delle sanzioni interessa poco interessa molto forse al popolo russo questo sì perché il popolo russo sì che le paga le sanzioni ma Putin non credo che paghi granché le sanzioni allora evidentemente questa strategia che sta gli oligarchi russi le stanno pagando senatore le sanzioni sì ma non sono Putin cambia la vita e poi sarebbe interessante chi paga le sanzioni degli oligarchi russi 20.000 persone senza lavoro in Sardegna perché non possono più andare nelle loro case non possono più andare nei loro yacht il mercato fermo eccetera quindi le pagano gli oligarchi russi va bene le pagano anche gli operai sardi quindi la libertà un prezzo compagno più lontano oppure gli alberghi sulla costa romagnola oppure la macchina del turismo in molte parti d'Italia quindi sono sono un armadoppio taglio le sanzioni questo è il mio punto di vista quindi nell'esempio l'esempio che hai fatto tu non calza non calza perché perché è molto più complessa la questione rispetto a un'aggressione pura e semplice come quella che tu hai delineato non sono due estranei sono due paesi che hanno profondi legami che risalgono a chissà quanti anni fa e che hanno anche reciproci risentimenti reciproche partite aperte reciproche questioni da risolvere quindi non è che uno che passava per la strada e gli mettono un coltello alla gola non è così ecco perché l'esempio non calza cosa farei? Io concentrerei tutti gli sforzi in questa fase per ottenere il cessato del fuoco quali gli sforzi? gli sforzi di tutta la comunità internazionale se noi però scusami facciamo finire il senatore io chiederei quali qualche esempio concreto senatore se riusciamo perché al momento più che altro no vorrei solo dire che gli sforzi la comunità internazionale da quello che vediamo insomma da tutto quello che stanno facendo ci sono ecco quindi se non sono sufficienti secondo lei vorrei capire quali sono concretamente l'unico che in questa fase sta mantenendo la testa sulle spalle e lo dico io adesso viene un colpo a Michele Boldrin l'unico che sta mantenendo la testa sulle spalle in questo momento è Papa Francesco il quale ieri all'udienza generale ha fatto delle dichiarazioni splendide nelle quali che se volete vi leggo nelle quali ha detto in questa fase non possiamo vendere armi non possiamo cedere armi non possiamo pensare che quella sia la soluzione anche perché vi pongo un'altra lui ha detto che non vuole aumentare la spesa italiana per la difesa militare se no non vorrei far dire ma diamo anche per assodato che Papa Francesco abbia detto questa roba qua posto che comunque il suo compito non è quello di dettare la politica militare o la politica di aiuti dell'Unione Europea fortunatamente perché lo Stato è laico ben inteso allora posso continuare Simone vorrei che mi chiarissi non posso no 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 ti lascio tutto il tempo per parlare però vorrei che mi chiarissi un altro un altro fattore ovvero se noi non diamo le armi all'Ucraina smettiamo di aiutarli com'è possibile arrivare in una situazione in cui si ferma il cessato del fuoco perché abbiamo una situazione in cui Ucraina ha meno armi rispetto adesso e Russia invece ha le stesse armi quindi probabilmente vince Russia forse allora armiamo l'Ucraina armiamole fino ai denti mandiamogli caccia carri armati caccia torpediniere lancia missili eccetera eccetera che cosa otterremo dall'altra parte che si arrendi otterremo che si alzerà ulteriormente l'asticella del conflitto e dopodiché che cosa facciamo mandiamo la bomba atomica all'Ucraina perché se no la Russia gli sgancia la bomba atomica e dopodiché quando ci vediamo il conflitto possiamo finire facciamo finire il senatore sto tenendo io il timer lo dico io quando tocca a un altro vorrei fare un minuto dice il Papa per ricordare le vittime della guerra le notizie di persone sfollate che fuggono morti feriti tanti soldati caduti da una parte e dall'altra sono notizie di morte chiediamo al Signore della vita che ci liberi dalla guerra con la guerra tutto si perde tutto non c'è vittoria in una guerra tutto è sconfitta che il Signore ci faccia capire che la guerra è una sconfitta ci liberi da questo bisogno di autodistruzione i governanti capiscano che comprare armi e dare armi non è la soluzione del problema la soluzione è lavorare insieme per la pace e come dice la Bibbia fare delle armi gli strumenti per la pace questa è la linea è molto semplice è questa qua diversamente si alza sempre di più l'asticella allora tu hai i missili supersonici ipersonici bene allora io ti do i caccia 30 secondi allora io ti mando le bombe al fosforo tu hai le bombe al fosforo allora io ti mando il nuovo tipo di caccia stealth che ti ferma le bombe al fosforo prima che allora io sai che faccio ti sgancio una bella bomba allora non se ne esce non è questa l'uscita questo è il mio punto di vista magari mi sbaglio magari avete ragione voi armiamo l'Ucraina fino ai denti mandiamoli al massacro e magari vincono e magari si finisce la guerra non è mai funzionato il tempo è finito senatore vai ma guarda senatore Pilon te lo dico francamente questa è retorica ipocrita allora tutta la cosa che dice il buon papa ma tutto bene tutto bella ma sai lui crede che esiste Dio allora quando il buon Dio farà tutta quella bella cosa che lui ha descritto e trasformerà le armi in strumenti di pace boh noi che cosa vuoi continuiamo a chiamarlo buon appetito prego no è molto educato che tu mangi finché discutiamo io lo credo appropriato no no vai tranquillo mangia tranquillo la fame la fame nel mondo anch'io la comprendo se tutto mi sembra stare lì a pari belli e bravi invocando il papa che invoca il padre eterno e poi girandosi dall'altra parte mi sembra francamente buona ipocrisia perché intanto c'è uno grande che mena e uno piccolo che le prende e si difende bene grazie a Dio poi c'è anche il paragone allora nel paragone mi hai detto il mio paragone non è calzante perché tu sai che i due che mi stanno aggredendo non hanno nulla a che fare con me sono degli sconosciuti mentre nel caso ucraino russo hai detto ci sono dei lunghi rapporti è vero ci sono dei lunghissimi rapporti per esempio i russi hanno regolarmente tentato di invadere l'Ucraina da qualcosa come 400 anni hanno ammazzato milioni di ucraini con la fame il compagno Stalin caro compagno Pilon l'ha fatto quindi hanno dei rapporti bene ti informo che i due che quel coltello stanno cercando di prendermi l'orologio sai chi sono? sono i miei cugini mi bastonano da anni cambia forse qualcosa adesso che sai che sono i miei cugini che conosco da anni che mi bastonano da anni dai quali cerco di sfuggire diventa adesso che sono i miei cugini cosa fai? invochi il buon Dio e gli dici speriamo che il buon Dio trasformi quei coltelli in armi di pace perché la tua logica sembra essere questa allora continui a non dire cosa bisogna fare salvo citare il Padre Eterno che ripeto se ci fosse questo sarebbe l'ottimo momento di fare una telefonata a Putin speriamo lo faccia il signor Padre Eterno ma nel frattempo visto che ancora non ha telefonato a Putin che io sappia occorre far qualcosa allora tu dici la comunità internazionale dovrebbe spingere ebbene la comunità internazionale ha spinto la comunità internazionale è una menzogna quello che stai dicendo la testa ma non sei ancora riuscito a dire una cosa una che la comunità internazionale dovrebbe fare per impedire questa cosa perché non solo c'è un voto di condanna all'ONU non solo ci sono attività diplomate che ripeto durano da in realtà più di otto anni sulla questione ma c'è addirittura la Cina che sta agendo per cercare di calmarli tenendo una posizione pseudo inizio che la Cina non interessa la pace cosa allora attento sei tu che hai tirato fuori la comunità internazionale ti informo che Cina e India pertanto che ti possa dispiacere non solo hanno 3 miliardi di persone che sono parecchie che vivono sul loro territorio ma fanno anche parte della comunità internazionale una sta nel consiglio di sicurezza dell'ONU l'altra è un grande paese entrambe assieme alla Turchia tutti i paesi che capisco possono non piacere guarda alcuni non piacciono ma non è questo il punto sei tu che hai tirato fuori la comunità internazionale se per comunità internazionali intendi invece solo l'Europa occidentale o l'Europa dell'Unione Europea più Svezia e Finlandia allora dovresti dire concretamente che cosa dobbiamo fare perché questi paesi quelli dell'Europa occidentale ok a cominciare dalla Polonia alla Finlandia eccetera eccetera stanno cercando e hanno utilizzato tutti gli strumenti possibili immaginali della diplomazia voi certo avete contribuito il tuo partito vi siete affratellati avete preso i soldi da Mosca non è vero Michele quello lo deciderà sta detto Simone i 49 milioni non li avete ancora restituiti d'accordo i viaggi del tuo capo a Mosca sono pubblici la fratellita del partito di Putin è pubblico la continuo supporto del regime putiniano è pubblico suppongo siano i vostri tentativi in buona fede sto dando la buona fede un minuto suppongo siano stati i vostri tentativi in buona fede di mantenere Putin nella comunità internazionale e di farlo ragionare non ci siete riusciti nonostante vi siate immolati avete fatto di tutto siete andati a Mosca li avete abbracciati li avete portati qua Berlusconi l'ha portato sul lettone ha voluto andare sul suo lettone insomma di tutto di tutto quando eravate al governo con Berlusconi all'inizio del 2000 di tutto avete fatto di tutto per convincerlo avete fatto un grande lavoro per convincerlo a fare il buono e pensa un po' niente ha preso tutti per il culo è invaso quindi la questione e adesso non solo invaso perché non sta nemmeno facendo una guerra normale sta radendo al suolo le città bombardando senza pietà sulle città perché nonostante abbia affamato il suo popolo investendo quasi il 5% del prodotto interno 10 secondi siccome è un paese dove la classe dirigente ruba a un esercito che non funziona allora caro compagno Pilon tu mi devi dire dopo tutti questi sforzi della comunità internazionale te compreso dopo tutti questi sforzi della comunità internazionale te compreso per convincere la dirigenza non solo Pilon a comportarsi come Dio comanda cos'altro rimane concretamente allora io non sono con il compagno guarda puoi chiamare in tutti i modi ma chi mi conosce sa che da quando avevo tre anni proprio diciamo che i compagni non sono mai stati in cima alla lista delle persone camerata va meglio no sono Simone e basta guarda non ho connotazione né di destra né di sinistra io credo che tu ti sia dimenticato un piccolo particolare i tuoi cugini che ti stanno aggredendo hanno la bomba atomica hai capito Michele? hanno la bomba atomica allora un pochino di cautela prima di dire ah noi armiamo l'Ucraina io un pochino di cautela ce la metterei perché hanno pur sempre la bomba atomica i tuoi cugini e proprio per quello che mi hai detto tu proprio per la inaffidabilità politica che è stata dimostrata in questi anni beh non mi sembra una grande idea quella di mettersi spada sguainata o il metto in testa come fa Enrico Letta andare a sfidare una potenza nucleare credo che la strada sia un'altra che non significa una strada che non sia di fermezza che non sia una strada di serietà ma deve essere per forza un'altra perché se facciamo l'escalation perdiamo tutti tutti io sono in contatto ogni giorno con amici fraterni un missionario che sta in Ucraina a Uzgorod che è una città al confine con la Polonia che è stata presa ad assalto dai profughi che fuggono dalle città invece sotto attacco mi scrive ogni giorno se vuoi ti giro il suo gozza di persone che raccontano che il figlio è morto al fronte di disastri di questo tipo di famiglie ferite eccetera tutto a colpa dei russi non è ecco vedi tu dici che il nemico sono i russi io invece dico di no chi è il nemico se io vado a prendere una famiglia chi è il nemico se prendo una famiglia ucraina e le siedo qua a questo tavolo vanno d'accordo se io prendo un bambino russo e un bambino ucraino che piangono piangono allo stesso modo se io prendevo un bambino italiano un bambino tedesco nel 1944 era il nemico allora si mondava che parlavo io Michele chi è il nemico io vorrei senatore la interrompo solo un secondo a parte la chiaramente la retorica che è sempre gradita però io vorrei farle una domanda ben diretta vorrei una risposta diretta ma secondo il suo ragionamento poi le faccio recuperare il tempo secondo il suo ragionamento però con questo discorso ma lui ha l'atomica ma lui ha l'atomica la potrebbe utilizzare quindi al condizionale insomma eccetera non rischiamo però di fargli fare come vuole cioè col fatto che lui ha la bomba atomica oggi prende l'Ucraina domani andrà in Finlandia poi andrà in Polonia poi andrà in Georgia poi andrà in Moldavia cioè capisce capisce quello che intendo e però io non c'è non si vorrebbe limiti alla pazzia di Putin sono d'accordo che comunque sia bisogna porre un argine però bisogna per porre un argine bisogna comprendere le ragioni o le presunte ragioni dell'uno e dell'altro quindi le semplificazioni giornalistiche sono sbagliate sono sbagliate noi dobbiamo capire le ragioni di un Putin che in questo momento additiamo tutti come un pericoloso è matto eccetera eccetera e però forse avrà delle sue ragioni che magari sono sbagliate avrà delle paure avrà per esempio paura che la Nato gli metta i missili nucleari sotto casa per esempio magari c'ha paura di questo e noi magari questo però una paura senatore giustifica dei bombardamenti sui civili non sto giustificando nessuno io sto parlando con voi e sto cercando di ragionare con voi mi avete fatto delle domande e sto cercando di insieme a voi trovare delle risposte che cosa possiamo fare per esempio c'era un appuntamento già fissato di un altro rappresentante del governo italiano con un altro rappresentante del governo russo abbiamo fatto saltare quell'appuntamento abbiamo detto no non ci interessa parlare ok secondo me magari mi sbaglio ma secondo me è stato un errore perché in un momento di questo tipo chi va a caccia di voi nessuno ma chi ha visto un film di caccia sa che non c'è niente di peggio niente di più pericoloso di un orso ferito chiuso in un angolo se l'orso è ferito ma riesce ha una via di fuga non ti attacca non ti aggredisce ma se tu lo chiudi in un angolo rischi ok allora non vorrei che noi ci trovassimo nella pessima situazione di chiudere un orso ferito in un angolo ok e di togliergli ogni via di fuga perché a quel punto non ha più niente da perdere e se non ha più niente da perdere poi è un grosso guaio per tutti questo è un ragionamento se volete molto semplice molto banale però sì però non ho ancora capito quale sia l'alternativa da lei proposta no io vorrei sapere qual è l'alternativa che proponete voi a questo punto io personalmente se vuole la mia io sono d'accordo con le sanzioni inviare supporto all'Ucraina per me quello che sta facendo adesso l'Europa va bene non basterà più perché il presidente Zelensky sta chiedendo anche stamattina l'ha chiesto la no fly zone sapete cosa vuol dire la no fly zone ma la nato ha già detto che non la concederà quindi ma lui sta insistendo davvero lui sta insistendo io ti ho portato il dialogo perché non ho capito come funziona sta roba la no fly zone significa tanto mancano 20 secondi Michele tocca a te però dovevo però non è la maniera non è la maniera questa comunque andiamo avanti la no fly zone significa che noi mandiamo i nostri caccia a abbattere i caccia russi perché il cielo dell'Ucraina deve essere sgombro dagli aerei russi questo significa a tutti gli effetti dichiarare guerra alla Russia e quindi che cosa significa? cioè capite che l'escalation porta inevitabilmente al disastro e io credo che in questa fase noi dovremmo fare il contrario dell'escalation dovremmo facilitare al contrario come dire un abbassamento però non ho ancora ora tocca a Michele però io ancora non ho capito in che modo ora tocca a Michele però perché non lo sa tu non sei una persona così ingenua tu stai raccontando bugie la no fly zone vuol dire vuol dire il legittimo e sovrano governo dell'Ucraina dice legittimamente sul mio cielo volano solo gli aerei che autorizzo io e autorizza gli aerei dei paesi ad essa vicini ed amici se altri aerei invadono e attaccano quegli aerei che sono autorizzati a volare si difendono e li abbattono quindi non è quello che dici tu buono quindi smetti di mentire stai mentendo li abbattono perché la legittima adesso veniamo alla tua bomba atomica sta attento chi abbatta i cacciarussi Michele chi te l'ho già detto noi noi l'ha nato gli hai rinato perché no ok gli hai rinato abbattere i cacciarussi attento qui c'è un problema di fondo che tu continui a girare intorno è sovrano e legittimo il governo ucraino o no ha diritto il governo ucraino di decidere chi vola sui cieli dell'Ucraina o no bene perfetto allora sei in una fase di pace ma questo ok però rispettate i tempi fate parlare grazie quello che sto dicendo invece di dirlo lo finisco io grazie perché come ho già detto Ivan la conduzione di questa cosa avrebbe fatta diversamente ma non importa andiamo avanti però Michele ci serve anche volontà da parte vostra se non c'è io non posso farci nulla siccome il sovrano e legittimo governo ucraino ha il diritto di decidere chi vola e chi non vola sui suoi cieli si autorizza che i cacciarussi e gli F-35 italiani ci volino o gli F-35 americani o gli Eurofighter tedeschi ci volino va benissimo ed è perfettamente dentro al diritto internazionale è un diritto suo se dice che i mig russi non possono volarci e questi mig russi vengono abbattuti non si esercita altro che la legittima difesa punto fine la storia dell'attomica ha veramente stancato ha veramente stancato perché l'attomica non ha alcuna intenzione di utilizzarla mio cugino il signor Putin perché? per la semplice ragione che se la usa anzitutto distrugge se stesso quindi questa cosa della minaccia dell'attomica è una presa per i fondelli ed è una minaccia continua che questo dittatore criminale utilizza e a cui quelli a cui gli vanno dietro e la utilizzano come argomento per lasciargli fare quel che gli interessa mi dispiace a questo punto o siete davvero così ingenui che è inutile che facciate lezioni a Di Maio sulla politica internazionale tornatevi a casa a coltivare i broccoli oppure siete in mala fede decidetevi perché questa menata che siccome è all'attomica può fare quel che vuole e noi dobbiamo fare i bravi e buoni aspettare che intervenga il padre eterno è francamente ripeto o ben enorme ingenuità e quindi broccoli oppure malafede in terzo luogo la retorica dei popoli che si vogliono bene è semplicemente retorica ed è pure falsa perché pur essendo vero che se io mettevo un ragazzino polacco e un ragazzino tedesco nel 1942 a giocare insieme nel playground forse se non si erano menati prima avrebbero giocato assieme è allo stesso tempo sempre vero che i tedeschi in quel momento erano i nemici e gli aggressori della Polonia e la Polonia erano stato aggredito ed occupato questo vale allora e vale adesso vale adesso quindi il fatto che il bambino ucraino la famiglia ucraina e la famiglia russa possano magari andare d'accordo non c'è dubbio alcuno il problema è che in questo momento i russi i soldati russi il governo russa e una fetta sostanziale della popolazione russa con la testa imbonita dalla propaganda putiniana sta bombardando ed aggredendo l'Ucraina e tu continui a non dire a non dire salvo la retorica del voemo sebbene che cosa bisognerebbe fare non solo continui a utilizzare una retorica francamente studiata secondo cui noi armiamo fine i denti noi non armiamo fine i denti tant'è che non gli stiamo dando i sistemi d'arma migliori se volessimo armare fine i denti gli ucraini avremmo ben altro da regalargli avremmo ben altro da regalargli di fronte ai quali l'esercito russo non avrebbe scampo d'accordo quindi noi stiamo permettendo semplicemente agli ucraini di difendersi tant'è che gli stiamo fondamentalmente passando armi di difesa anticarro e antiaereo più di quello sistemi radar difesa antiaerea difesa anticarro più di quello non stiamo passando quindi la retorica secondo cui stiamo come dire fomentando l'escalation non è vera non solo non solo guarda caso l'avanzata sul terreno dell'armate russe si è fermata e si è fermata perché gli ucraini sono stati in grado di difendersi se noi avessimo impedito agli ucraini di difendersi dicendogli no non vi diamo assolutamente niente non vi riteniamo aggrediti oggi oggi le armate russe sarebbero al centro di Kiev avrebbero probabilmente deposto e ucciso il legittimo governo ucraino avrebbero fatto molti più danni e avrebbero trasformato l'intera Ucraina o quella parte di Ucraina che interessano che gli interessa prendere in terreno loro colonizzato e avremmo sai cosa terrorismo ucraino perché poi c'è l'altro aspetto se quelli come voi che sono in attesa del padre eterno e pelicano la bontà e la pace quanto ho? 20 secondi ti do in più la pace nel mondo avessero la loro avremmo la nuova unica storica colonia russa occupata militarmente nel centro dell'Europa con un'espulsione di decine di milioni di persone espulse da Putin e dai russi e avremo molto rapidamente il terrorismo ucraino e poi e poi avremo partiti parlamentari law and order di quelli ordine per Dio datemi i pieni poteri che direbbero ah che brutti i terroristi ucraini bisogna metterli in galera grazie senatore prego guarda io ti invidio Michele perché tu sei pieno di certezze e sai esattamente cosa fare e hai una visione assolutamente coerente con se stessa di quella che è la realtà e la verità assoluta io tutto questo non ce l'ho però mi ricordo una cosa qualche anno fa ero giovane ero erano gli anni 90 avevo le tue stesse certezze di fronte al conflitto in Iraq mi ricordo che ero ben contento di quando Bush fece l'invasione dell'Iraq e disse che bisognava fermare Saddam Hussein bisognava intervenire militarmente e sappiamo com'è andata mi ricordo però che ci fu una voce che mi mise in crisi in quegli anni una voce che era Giovanni Paolo II che si alzò contro la guerra in Iraq e disse non fatelo non fatelo e dice ma perché il Papa dice sta cosa è giusto bisogna invadere l'Iraq togliere di mezzo Saddam Hussein che è un sanguinario dittatore che ammassa il suo stesso popolo eccetera eccetera eppure quel Papa l'aveva vista lunga perché quella guerra portò molti più danni di quelli che furono i benefici molti più danni e quei danni li stiamo ancora pagando adesso noi però posso chiederle di rimanere nel merito cioè rispondere alle argomentazioni di Boldrin se non vi piace quel che vi dico non mi dite più fate parlare Michele Boldrin per tutta l'ora della trasmissione lei ha parlato allo stesso tempo ci mancherebbe altro cortesemente mi fate dire quello che mi pare altrimenti dite voi fate voi arrivederci grazie saluti agli amici a casa e dite come fa io sto raccontando un fatto un fatto che è nella mia esperienza personale la pace la vorremmo tutti quello mi pare evidente a favore di un intervento armato per fermare un pericoloso dittatore come Saddam Hussein la storia ha dato ragione non a Simone Piloni la storia ha dato ragione a Giovanni Paolo II che aveva detto non fatelo perché oggi l'Iraq sta molto peggio oggi la popolazione irachena ha pagato un prezzo enorme per quell'invasione che ovviamente ci viene raccontato solo in parte e questo è un fatto che io porto nel cuore e quando io poi prendo delle decisioni che hanno anche una risultanza politica perché faccio rappresentante del popolo italiano quello che mi porto nel cuore sono anche le mie esperienze precedenti ho 50 anni non ne ho 20 e ho vissuto 30 anni 40 anni di vita attiva nella quale ho visto cose ho visto come vanno le cose ecco di fronte alla guerra in Ucraina io mi trovo in difficoltà perché credo che stiamo intraprendendo una strada che non porterà a un particolare bene anzi una strada molto rischiosa che certo siamo tutti d'accordo le invasioni vanno condannate bisogna fermare Putin a parole siamo tutti d'accordo ma io francamente armare il popolo ucraino perché vada alla guerra per conto nostro non è una cosa che vedo come buona perché dice per conto nostro loro hanno scelto di difendersi lì sul loro territorio hanno scelto di difendersi e grande onore e grande rispetto per questo e va bene però siamo convinti che noi occidentali abbiamo come unica possibilità quella delle sanzioni quella del armare il popolo ucraino io penso che ci siano altre strade promuoviamo io sto cercando di capire quali sono queste strade che lei propone scusate ma perché Putin deve parlare solo con il presidente della Turchia il presidente della Cina e il presidente dell'India perché perché ma ci hanno però da parlare con Putin mi sembra da tempo in un momento in un momento di guerra in un momento di crisi in un momento in cui ci sono vite umane in gioco chi ha più testa la usi allora credo che in questo momento la nostra diplomazia che è tra le migliori al mondo se mi permettete l'ho conosciuta di persona avrebbe probabilmente degli strumenti per intervenire non dimentichiamoci che al di là delle battute di Michele che rimando al mittente sui rubli e la Lega ma storicamente l'Italia finita la guerra fredda ha cominciato a intraprendere relazioni molto importanti col popolo russo e storicamente dall'89 in poi abbiamo una bilancia commerciale molto forte molto salda col popolo russo facciamo pesare tutto questo usiamolo per il bene andiamo a interloquire con il popolo russo con i rappresentanti del popolo russo richiamandoli alla necessità di cessare il fuoco fermate le armi e poi costruiamo rendiamo possibile un tavolo in cui le reciproche rivendicazioni possano trovare uno spazio politico di discussione di dialogo di valutazione voi dite tanto Putin prende per il culo tutti e vabbè allora se tu hai la soluzione migliore tirala fuori però mi mi permetto tanto il tempo posso posso sì un attimo Michele voglio solo dire una cosa poi ti lascio il tanto tocca a te voglio solo dire al senatore che all'inizio ci si è provato a parlare con con loro sono andati anche in Russia allora attento ma posso chiedere io un attimo a Simone perché davvero Simone sei bravissimo a far retorica a parte che hai tirato fuori non abbiamo degli scambi col popolo russo purtroppo il popolo russo come vedi sai cosa sta facendo il popolo russo Simone in questi giorni sta scappando perché chi può scappa dalla Russia informati sono scappate decine e decine di migliaia di persone io ho ricevuto richieste da amici colleghi tutti li stiamo ricevendo qua negli Stati Uniti che dicono mandatemi una lettera d'invito appena trovo il treno i treni che portano fuori dalla Russia i pochi voli che vanno da Istanbul sono booked per mesi perché chi può se ne scappa dalla Russia quello il popolo russo quella parte di popolo russo che ha un minimo di libertà e un minimo di capacità di muoversi gli altri quelli affamati da Putin quelli possono solo andare a morire la bilancia commerciale come la chiami tu Florida a parte che siamo dei netti contribuenti in bilancia commerciale ma stai raccontando delle cose non vere perché sai chi ha fatto gli investimenti chi ha cercato di stabilire i rapporti con la Russia stalinista il partito comunista perché ci prendeva i soldi e sai chi ne ha approfittato il capitalismo di stato italiano cioè la Fiat l'hanno chiamata Togliattigrad adesso non si chiama più Togliattigrad ma l'hanno chiamata Togliattigrad quindi se quello è il modello di rapporti con la Russia che tu hai in mente perché a quello ti riferisci non c'è niente altro dopo la guerra abbiamo pieno di aziende che lavorano hai parlato stai attento ti sto spiegando hai parlato esplicitamente hai parlato esplicitamente di quello che abbiamo fatto dopo la guerra quando c'era l'URSS dopo l'89 prima hai parlato di una cosa e dopo l'89 e dopo l'89 e comunque dopo l'89 abbiamo continuato a fare la stessa cosa ovvero le aziende di stato italiano in grassa parte hanno fatto da come dire Marines da sbarco hanno stabilito rapporti tra stato a stato con gli oligarchi siamo parte Banca Intesa Eni e così via Saipem sono parte sono state parte degli strumenti della macchina da guerra che ha costruito gli oligarchi attraverso cui il regime che non è solo Putin sono alcune decine di migliaia di persone ha ingrassato l'1,2,3,4,5% il 10% della popolazione russa quelli che vanno a Forte dei Marmi affamando il resto e impedendo il resto di avere sviluppo economico questa è la verità dell'economia russa è un'economia estrattiva che estrae dal sottosuolo non produce non fa nulla guardati la bilancia commerciale importano persino la carta igienica ok e esportano capitali e yacht per gli amici di Berlusconi per andare in getta con Berlusconi quindi ripeto stai continuando a costruire una favola che vengono in gita con le famiglie a Rimini a Riccione sono una minoranza piccolissima della popolazione russa non sai di cosa parli la quantità di turistica il flusso turistico il flusso turistico a parte che questa cosa del turismo come la chiave di tutto fa un po' ridere ok fa veramente ridere la tua continua descrizione capisco che in Lega non riusciate a capire cos'è lo sviluppo economico perché avete economisti di un certo tipo ma il fatto che voi continuate a predicarciare che lo sviluppo economico italiano avviene da quella miseria del turismo per cui si ingrassano i proprietari degli alberghi e si mantiene la gioventù a fare i camerieri i lavapiatti a 1500 quando va bene euro al mese per 9 ore 10 ore di lavoro 6 giorni alla settimana è solo la prova della vostra incapacità di capire cos'è lo sviluppo economico il desiderio di trasformare l'Italia in una variante soleggiata della Russia ma veniamo di nuovo al punto della guerra che continui ad evitare bravo la invasione dell'Iraq non fu una grande idea la invasione dell'Iraq non fu una grande idea ma l'analogia giusta l'analogia giusta allora con l'invasione dell'Iraq sai qual è Simone? l'Iraq venne invaso da una potenza che si riteneva vicina perché riteneva che il governo in carica fosse illegittimo o lo spacciava come illegittimo d'accordo e riteneva così facendo di poterla denazificare o demusliminizzare eccetera che è esattamente quello che sta facendo Putin per cui per cui cos'è che mi vuoi mostrare? 1.700.000 turisti all'anno dalla Russia quanti? 1.700.000 sono tutti no 1.700.000 sai qual è la popolazione della Russia? sono 150 milioni sono 146 milioni bravissimo quindi come vedi stai parlando dell'1% l'Italia è bravissimo è quello che ti ho detto Simone mi stai solo dando ragione esiste un'elite russa che include il 5, 6, 8% della popolazione che attraverso il controllo dei sistemi di estrazione delle risorse naturali si è arricchito sulla spalla del resto del paese quell'elite russa che vive nelle grandi città e controlla il sistema economico del paese che non è un sistema di mercato è un sistema oligativo controllato dal centro dallo stato e dal potere politico dove si fa affari se e solo se il potere politico ti concede l'opportunità di fare affari è possibile che tu l'abbia ragione allora facciamo finire Michele dopo tocca a te 30 secondi quel sistema economico quel sistema economico io mi rendo perfettamente conto che sia il sistema che la Lega intende importare in Italia peccato che noi non lo vogliamo un sistema che produce fame sotto sviluppo violenza e soprattutto rafforza l'oligarchia politica che poi ti porta alle guerre ma volevo ritornare alla questione dell'Iraq l'esempio dell'Iraq è perfetto calza perfettamente 10 secondi la guerra americana in Iraq è stata un grave errore esattamente come lo è la guerra russa in Ucraina vi sono molte analogie ma il ruolo degli Stati Uniti in questo momento lo sta facendo la Russia e gli ucraini si stanno difendendo la loro fortuna è che si stanno difendendo meglio di quanto si difengono gli iracheni sai perché? e questo l'analisi era giusta gli ucraini e lo stanno dimostrando in piazza andando a mani nute pubblicare armati credono nel loro governo credono nel loro paese si sono eletti il loro presidente difendono la sovranità nazionale gli iracheni sono fuggiti perché Saddam era effettivamente un dittatore questo non giustifica la follia americana di occupare cercare di colonizzare l'Iraq ma era un fatto che fosse un dittatore sanguinario questa la differenza per questo l'Iraq è caduto nel giro di due settimane e l'Ucraina resiste 30 secondi in più a spillon immaginati la scena adesso guerra contro Saddam Hussein la Russia interviene e comincia a fornire armi agli iracheni lo fece? ma che fece ci avevano quattro scude di vent'anni prima ognuno fa quel che può quando i morti mi fanno e sarà mica colpo se tu fai un escalation poi non sai dove arrivi se nella guerra dell'Iraq fosse intervenuta la Russia o i paesi del patto di Varsavia che non c'era già più però immaginatela prima e avesse cominciato a foraggiare una delle due parti sarebbe successo un disastro è esattamente questo il punto quindi io capisco che tu conosci la società russa molto meglio di me quindi io non contesto la tua analisi molto probabilmente hai ragione probabilmente c'è un'elite che si è costruita sulle spalle della povera gente e probabilmente questa elite è poi l'elite che ci troviamo nel mondo del turismo però sai un milione e settecentomila presenze in Italia che ci saranno o non ci saranno un po' di differenza la fanno per la nostra economia ma noi non è che dobbiamo mettere la nostra economia prima della pace prima viene la pace poi viene la nostra economia e su questo sono altrettanto d'accordo sono semplicemente perplesso perché la mia prima reazione di fronte a un'aggressione sarebbe quella di dire ragazzi giù diamogli tutte le armi portiamo giù aiuti con missili bombe carri armati caccia poi però mi sono fermato e ho detto aspetta nel mila neccento novantuno cos'era novantadue cos'è che è successo la seconda guerra del volco no era più era più avanti era il novanta novantuno la prima duemilatré la seconda eh sì grazie scusami nella seconda guerra del volco cosa è successo e mi si è acceso il file ti ho detto aspetta un attimo tutto il mio ragionamento è questo sono convinto che non sia la soluzione sono convinto che poi devo ancora leggere il decreto la mozione al senato l'ho votata era diciamo genericamente parlava di aiutare l'Ucraina anche con aiuti di tipo militare l'ho votata il decreto lo voglio leggere però non ho tutte queste tue certezze ho paura che ci troviamo coinvolti in una escalation senza uscita e sono ancora convinto che mettere un orso ferito nell'angolo non sia mai una buona idea io vorrei costruire una via d'uscita per tutte e due le parti da questa situazione e secondo me la nostra diplomazia ha le armi per poterlo fare semplicemente avrebbe bisogno consentitemi di un responsabile un pochino più diciamo all'altezza e avrebbe bisogno di essere più liberi eh ma andiamo Salvini io sto parlando del ministro degli esteri attuali e credo che vuoi sostituirlo che vedendo che propone qualche ministro più però al netto di questo credo che ci sarebbero le possibilità della nostra diplomazia di riportare a un tavolo serio anche la parte russa certo che dobbiamo parlare quindi il problema la fa tutta la polemica sulla mia assenza per la presenza di Zelensky certo che dobbiamo parlare con Zelensky e dobbiamo ascoltarlo e ci mancherebbe altro però non è da solo in questo conflitto allora se noi parliamo solo con lui il rischio che si isoli l'aggressore e che quindi ci si trovi poi un orso perito nell'angolo senza via d'uscita e con le armi termonucleari secondo me c'è sto facendo delle valutazioni insieme a voi voi avete le certezze io non ne ho perché di fronte alle famiglie che tornano con il morto in casa con il soldato che lascia 3-4 figli morti cioè che muore e lascia 3-4 figli a casa con la moglie o non so che cosa mi metto nei panni di quelle famiglie che sento quotidianamente e ci sto malissimo il problema è trovare soluzioni concrete voi mi dite bene voi mi dite che l'unica strada è mandare le armi no secondo me no come la diplomazia facevo l'esempio prima cinese e turca riesce comunque a parlare con i russi secondo me anche l'Europa dovrebbe parlare con i russi anche perché più diciamo cerchiamo di anche la Cina senatore si è espressa contro il conflitto non mi pare che Putin abbia ascoltato la Cina ma lo stia il problema scusami Simone guarda davvero poi recuperi il tempo lascia che ti interrompa posso perché facciamo finire il senatore Michele segnati le cose che vuoi dire poi tanto hai tutto il tempo grazie dicevo la Cina la Cina è interessante in tutta questa partita la Cina fa l'interesse della Cina ok come è giusto che sia l'India fa gli interessi dell'India come è giusto che sia l'Italia fa gli interessi dell'Italia ve lo chiedo secondo me in questa fase l'Italia non sta facendo gli interessi dell'Italia perché l'interesse dell'Italia in questo momento sarebbe quello di ottenere il prima possibile cessate il fuoco e di mantenere aperto il canale di dialogo con tutte e due le potenze che si stanno scontrando questo secondo me sarebbe l'interesse dell'Italia voi mi dite che non è vero eh ragazzi ci avete ragione voi l'Unione Europea comunque sta facendo perché comunque Macron e Scholz hanno chiamato Putin hanno avuto diverse chiamate Macron e Scholz Germania e Francia e perché l'Italia no? allora o perché a naso la pranta l'esercito e la Germania ha più contatti perché se c'era una potenza nell'ambito finisca senatore che il tempo è concluso ma c'è anche c'è anche la tornazione posso fare sì certamente adesso è Macron il presidente di turno e allora abbiamo pazienza sì ma non è Scholz perché la Germania parla e noi no? ma perché c'è Gazprom e quant'altro e poi c'è il fatto anche di essere stati divisi fino a 30 anni fa le avete lette su Repubblica? no abbiamo pazienza Repubblica non ci piace Repubblica senatore non si preoccupi ma no ma nostri in due vuole dirmi che non è importante è un investimento molto importante fra cui la Germania decida di chiudere e noi non abbiamo interessi altrettanto importanti certo che abbiamo interessi altrettanto importanti ma non abbiamo strutture condivise dal punto di vista infrastrutturale comunque facciamo andare Michele con il suo intervento a chiedere come è come è la situazione non nego è il rapporto ben inteso il rapporto esiste sto parlando di un altro fatto ovvero il fatto che c'è una struttura proprio che è condivisa questo sto dicendo le sanzioni le stiamo pagando anche noi non dico solo noi non abbiamo mai detto il contrario e la questione invio delle armi mi vede molto perplesso e tocca a Michele sono le stessità che vengono dalla mia esperienza dopodiché voi avete certezze mi piacerebbe sapere dove le ricavate allora a me pare che qua l'unico con le certezze sei tu tu sei certo che fanno l'area perché prima ti è scappato non so se ti è scappato se io sono uno di quelli che Freud non c'entra niente hai imparato agli psicologi che certe parole non escono per caso quando escono sistematicamente e dal mondo tuo e anche da te stasera mi sono sentito ripetere in questo mese centinaia di volte che gli ucraini stanno combattendo per conto nostro mentre no stanno combattendo per conto però mi piacerebbe sapere perché insistete su questo punto che è un punto chiave che è un punto chiave prima hai parlato di due grandi potenze che si scontravano poi è venuto fuori che una delle potenze era l'Ucraina sei sicuro che non avessi in mente gli Stati Uniti e cioè anche tu creda nelle tue certezze sottostanti in realtà che tutta questa cosa è una specie di guerra proxy fra USA e URSS perché a me sembra che quello che ha le certezze sei tu Simone poi usi la retorica del fatto che gli altri abbiano certezze tu no e ti stai chiedendo siccome ti stai chiedendo e non hai trovato risposta per il momento non hai nulla da proporre se non però la certezza di dirci che tutto ciò che gli altri fanno è sbagliato tra l'altro è continuo è certo la base di questa nostra conversazione stasera al di là dei dettagli sull'Iraq su questo su quello sul Papa è fondamentalmente che quella che tu ritieni essere la risposta del governo italiano e della comunità internazionale europea è sbagliato continui a insistere su questa cosa della diplomazia quando il presidente di turno dell'Unione è lì che parla letteralmente l'ha detto Draghi tre o quattro volte alla settimana Scholz ci ha pagato molto meno Scholz è intervenuto all'inizio dopodiché Putin l'ha tranquillamente mandato a quel paese ok il ruolo come vedi della diplomazia c'è e la tua teoria secondo cui si fa solo diplomazia non si danno armi è platealmente violata dall'esempio iracheno e anche dall'esempio israeliano e scusa iracheno turco i turchi che un po' riescono a parlarci tant'è che i pochissimi voli che ancora escono da Mosca vanno a Istanbul credo uno al giorno uno ogni due giorni non mi ricordo ok avvengono nel contempo mentre la Turchia fornisce all'esercito ucraino forse la sua arma più letale i famosi droni turchi che fanno fuori i cararmati russi quindi non c'è assolutamente incompatibilità anzi è la regola della diplomazia internazionale quando io ritengo che tu stia aggredendo devo tenerti a freno perché sai come si fanno le trattative non so se tu abbia un minimo di conoscenza della storia diplomatica internazionale ma le trattative in una situazione di guerra si fanno guardando la situazione sul terreno si parte sempre dalla situazione sul terreno ed è una delle ragioni per cui l'attuale posizione russa sul terreno ucraino è molto forte perché? perché hanno occupato violentemente e distrutto un pezzo sostanziale di Ucraina e tra l'altro il pezzo più ricco per cui in eventuali trattative questi diranno noi siamo qua e questo ce lo teniamo è colonia occupata ce lo siamo preso e distrutto abbiamo cacciato e deportato la gente ok e quindi ce lo teniamo quindi le trattative diplomatiche quando qualcuno invade Simone si fanno guardando la situazione sul terreno e qualsiasi diplomatico che abbia la testa attaccata al collo te lo dirà le trattative diplomatiche non si fanno dicendo conquista conquista ti lascio fare io sono pacifista ok prendi tutto quello che vuoi se avessimo seguito il tuo consiglio in questo momento non ci serve nessuna trattativa diplomatica possibile le armate di Putin avrebbero invaso l'Ucraina cacciato 20 milioni di persone ammazzato a gogo ammazzato Zedelsi e tutto il suo governo e ci direbbero signore e signori c'è un fatto compiuto questo pezzo di Ucraina è nostro e voi se volete toglierci venite in guerra con noi questo sarebbe successo se noi avessimo seguito la linea pacifista si fa per dire della Lega la quale è pacifista guarda caso guarda caso solo quando Putin quello con cui c'ha l'alleanza c'ha la grande fratellanza quello che da vent'anni ci spiega essere il più grande politico europeo aggredisce invade ed uccide ma è tutto per caso perché tu le cerchiette non ce l'hai però per caso per caso come che noi lasciamo sei troppo intelligente per usare il sarcasmo no sono proprio intelligente e sto usando il sarcasmo perché non ti ho ancora sentito né te né Salvini né nessuno dei tuoi scusarsi pubblicamente col popolo italiano e anche col popolo ucraino per ciò che avete fatto e detto di propaganda russa da vent'anni a questa parte sì sì come che ti metti in sovraimpressione quello che il tuo capo ha fatto e detto le foto le dichiarazioni le fratellanze fra i partiti guarda caso volete la pace nel mondo all'improvviso il disarmo giusto quando il vostro alleato strategico sul piano politico ok ha invaso un altro paese ma vuoi che ti mostri le relazioni fra i vostri pseudo intellettuali e il signor Dugin che teorizza l'impero russo cristiano ortodosso con Mosca come nuova Roma o le sai da solo io non ho ancora visto nessuno di voi e tu sei l'unico che hai il coraggio te lo riconosco perché se si finiscono per quello mi sei anche simpatico perché sotto sotto hai una dignità tua personale che almeno ti confronti ma il tuo partito il tuo capo Zaia Zaia che è andato buffone a bere nelle enoteche della Crimea occupata e a riconoscere come regione Veneto che schifo la Crimea come se avesse il livello di servilismo degli esponenti leghisti nei confronti del regime russo è tale che nel 2016 uno che non ha titolo per farlo perché fino a prova contraria il Veneto non è uno stato autonomo è andato a fare la spagliacciata di riconoscere l'occupazione della Crimea come stato indipendente dall'Ucraina e poi si è fatto il giro delle enoteche Crimea in compagnia degli occupanti è su via Simone abbiate il coraggio di dire perlomeno non che vi siete sbagliati sull'Iraq ma che vi siete sbagliati su Putin e chiedete scusa cominciamo da lì e poi da lì vediamo cosa fare facciamo replicare al senatore prima so che Francesca e Umberto devono andare perché noi di solito facciamo dirette fino alle 15 scusate una goal importantissima ok allora facciamo gli ultimi 10 minuti però recupero quanto dice Simone Michele assolutamente ci vediamo dopo grazie mille ci vediamo buon lavoro facciamo gli ultimi due interventi 5 minuti a Simone e chiude Michele perché aveva iniziato prima Simone io posso 3 minuti perché purtroppo mi sono reso conto che un'altra televisione da qui andare ok facciamo 4 e 4 sto sto qua mi piacerebbe solo che tutte queste certezze Michele le avesse per esempio nel conflitto tra Israele e Palestina in cui c'è uno stato sovrano Israele che viene costantemente messo sotto Simone davvero devo interromperti scusate mi sono attaccato scusate dai territori dello stato palestinese però gli ebrei non hanno il diritto di difendersi perché guai se si provano a difendersi sono i soliti cattivi maledetti eccetera eccetera allora lì le certezze però vacillano il diritto di autodifesa del popolo ebraico lì invece sparisce guarda io veramente un pochino comincio a averne piene le tasche di questa di questa modalità per cui ci sono le guerre giuste nelle quali bisogna stare dalla parte di chi dico io perché altrimenti se sei dall'altra parte non capisci niente sei a filo Putin sei filo russo sei filo che cosa hai preso i 49 milioni cioè dai su cerchiamo di essere seri anche perché il tema è serio l'ho detto all'inizio e lo ripeto questa guerra ha delle ragioni molto complesse pensare noi di dall'esterno essere capaci di risolverle mandando i nostri gli MG 42 o i nostri razzi anticarro perché in quel modo risolviamo la guerra è a mio modo di vedere riduttivo e pericoloso vogliamo davvero mettere le mani in questa faccenda bene allora intanto cominciamo a togliere il campo da tutti i tuttologi che affollano le televisioni e i giornali e raccontano stupidaggini dalla mattina alla sera secondo cominciamo a stare un po' zitti a lasciare lavorare chi di Russia e di Ucraina se ne intende per davvero e non per pinta e non come fornitore di notizie ufficiali l'Espresso il Corriere della Sera o Repubblica gente che ha passato la vita in Russia la vita in Ucraina diplomatici di alto profilo diamo loro un mandato serio di mettere giù una serie di roadmap che possano portare al cessato il fuoco e alla pace e smettiamola con queste idiote tifoserie a ragione uno a ragione l'altro perché quello è un animale e quell'altro non è un animale questo è secondo me il minimo se partiamo da qua forse abbiamo qualche prospettiva se invece continuiamo a fare finta di usare l'Ucraina come se fossimo chissà che in realtà diventa un terreno di scontro politico per questioni di politica interna interna che è una cosa ancora più vergognosa cioè attaccare un governatore su una questione che riguarda la politica internazionale secondo me Michele è una caduta di stile imbarazzante da parte tua come che sia scusa perché detto questo io credo perché puoi spiegare questa offesa spiega l'offesa per favore spiega l'offesa spiega l'offesa spiega l'offesa spiega l'offesa l'offesa è quella che tu stai parlando di un governatore che non è presente e che non può difendersi e che non può controbattere neanche Di Maio è presente eppure l'hai insultato tutto il tempo ma le sue dichiarazioni sono lì da leggere e io sto dicendo che non sono e anche le dichiarazioni di Isaia sono lì da leggere ma cosa dice ma non di perdogne a parte questo chiudiamo che manca un minuto poi chiude Michele il problema è che su questa vicenda noi abbiamo purtroppo spettacolarizzato la questione siamo passati direttamente dall'avere 5 virologi online all'avere 5 tutologi dell'Ucraina o della Russia online e nel frattempo ci sono le famiglie che sono in prima linea combattono e muoiono e ci sono come ha detto il Papa soldati da una parte e dall'altra che ci lasciano la pelle tutti i giorni allora meno il metti sulla testa da parte di gente che non ha neanche fatto il servizio militare meno dichiarazioni allarmi allarmi un pochino più di silenzio e un pochino più di umiltà e un pochino più di cognizione di causa da parte della politica italiana e un mandato chiaro al governo per cercare il cessato il fuoco e la pace questa è la mia ricetta il governo il mandato per cessare il fuoco e la pace ce l'ha in secondo luogo io il militare l'ho fatto l'ho fatto pure seriamente Simone Pilon tu l'hai fatto? io ho fatto l'alpino assolutamente bravo allora abbiamo fatto il militare tutti e due hai fatto il militare dall'alpino bravissimo io ero in fanteria d'arresto a mangiare merda in secondo luogo io ho tutto il diritto e mi ritengo offeso dalla tua affermazione su Zaia a giudicare in pubblico le azioni di chiunque faccia politica sulla base delle notizie pubbliche hai insultato Draghi hai insultato Di Maio hai insultato decine di persone oggi che non ti vanno bene e non erano presenti quindi mi fai la cortesia mi fai la cortesia di scusarti con me perché io ho tutto il diritto di qualificare politicamente come assolutamente scandalose le azioni del tuo amico di partito Zaia non è colpa mia se il tuo partito e i suoi dirigenti sono alleati della Russia sono propagandisti della Russia e del regime di Putin in particolare e lo sono da lungo tempo e se vi sono ragioni sostanziali di credere che abbiate ricevuto soldi come partito dal regime russo e supporto dal partito di Putin sono scelte vostre sono scelte vostre sono scelte pubbliche e ve ne assumete la responsabilità se la cosa ti molesta non so cosa dirti d'accordo ed infine mi sono assolutamente offeso perché evidentemente prima di dare giudizi su Michele Boldrini forse visto che tu mi hai ricordato che ai 50 anni io erano 66 mi interesso di questioni pubbliche da molto tempo la questione israelo-palestinese mi è cara da tempo ok e la mia posizione sull'argomento è ben nota ed è scritta e la questione israelo-palestinese quella sì che è complessa perché lì dipendentemente da dove si comincia negli ultimi 70 anni 80 anni e cioè dagli anni 40 l'aggressore e l'aggredito è un mischiotto veramente infinito e per lì veramente prendere la parte in cui uno è cattivo e l'altro è buono è assolutamente ingiusto è assolutamente impossibile per cui esistono responsabilità israeliane ed esistono responsabilità israeliane ed arabe cose su cui ho scritto ampiamente negli anni da decenni letteralmente da 40 anni d'accordo quindi prima di venire a dare a me lezioni sul tema ti prego di informarti ti prego di informarti ma non solo non solo non solo è uguale qui non c'entra assolutamente nulla no non è uguale ed è qui l'ipocrisia perché mentre fai fai lì continui ad attaccare i tutologi che vanno in tv che sono quasi tutti i leghisti avete avete riempito voi avete mandato al Parlamento buffoni come Rinaldi come l'ha donato quella bionda avete borghi gente di una ignoranza di una cialtronaggine costruiti su puttanate televisive da paragoni in poi avete costruito la vostra fortuna elettorale su una banda di cialtroni e clown che andavano in tv ed ora ti metti a fare le prediche se tu sapessi qualcosa di storia palestinese israeliana capiresti che è una situazione quella lì sì che è molto complessa geograficamente etnicamente politicamente storicamente mentre la questione russa ucraina oggi è estremamente lineare esiste uno stato indipendente esiste uno stato dipendente sovrano uno stato che ha lo stesso livello di democrazia del messico quindi almeno che tu non consideri il messico uno stato non legittimo e lopez obrador un presidente illegittimo siamo allo stesso livello 40 secondi d'accordo e questo stato è stato invaso aggredito e bombardato da uno stato il cui capo e dittatore è amico del tuo partito e non ti ho ancora sentito né te né il tuo partito dire che è un dittatore un criminale un assassino e che vi pentite di quello che avete detto negli ultimi vent'anni non dobbiamo andare cioè si va dal prete a confessarsi no no chi fa politica si confessa in pubblico a senatore Pilon chi fa politica si confessa in pubblico ma non lo è quindi tra l'altro io non voglio non voglio prendere le difese di Di Maio che qui abbiamo criticato tanto spesso però a differenza Salvini bisogna dire che Di Maio per alcune castronerie che ha fatto si è scusato per quello in particolare non mi risulta però se a voi mi risulta mi fa piacere io ringrazio e saluto davvero grazie Michele grazie mille grazie al senatore buona Pasqua ad entrambi ciao ciao